Mister si riparte, le chiedo subito che calcio ritroveranno gli italiani e soprattutto che Entella ritroveranno i tifosi bianco-celesti. Innanzitutto speriamo che ritrovino l'Entella che hanno lasciato l'8 marzo, quella vincente contro l'Ascoli, quindi speriamo che sia così. Il calcio sicuramente diverso, calcio che comunque sta cercando di ripartire, sta cercando di ripartire anche bene, nonostante naturalmente la mancanza del pubblico sicuramente inciderà tanto e quindi stiamo facendo il nostro meglio un po' tutti quanti per far sì che tutto questo risulti, ripeto, fluido e abbastanza scorrevole fino a quando appunto ci sarà la possibilità di far venire anche i tifosi allo stadio che sono poi la cosa più importante. Noi facciamo la nostra parte, stiamo bene e naturalmente non si può essere al top dopo tre mesi di stop, ma nella stessa condizione nostra ci saranno tutti gli altri, quindi dobbiamo subito concentrarci per quello che è il nostro obiettivo principale, che è la salvezza, quindi bisogna subito fare punti, punti importanti, ci sono dieci partiti, dobbiamo fare sette, otto, dieci punti per essere tranquilli e poi vedremo. Che lavoro è stato svolto, mister, in queste prime tre settimane, immagino anche per prevenire gli infortuni e per prepararsi a quello che sarà un vero e proprio tour de force? Beh, l'errore più grande che si può fare in questi casi è quello di pensare di forzare, quindi di pensare di accelerare, non si fa altro che andare incontro a problemi soprattutto muscolari. Abbiamo fatto una prima settimana di ripristino con un lavoro di capacità aerobica e poi abbiamo lavorato un po' sulla forza, un po' su quella che è la potenza aerobica, un po' sulla velocità, ma senza forzare più di tanto perché comunque sappiamo che abbiamo intanto bisogno di fare solo dieci partite e bisogna lavorare per essere brillanti durante le stesse. e per fare questo devi essere bravo a capire i momenti in cui devi mollare, i momenti in cui devi accelerare e dobbiamo essere bravi soprattutto con l'occhiometro, come dico io, a guardare e vedere i giocatori come stanno, come non stanno, monitorarli continuamente. Perché oggi il problema è che se c'è un piccolo infortunio purtroppo che si prende 20-25 giorni è finito il campionato. Quindi dobbiamo pensare soprattutto al recupero dei giocatori, al fatto che dobbiamo essere bravi a capire quando è il momento di mollare un attimino. Questo è quello che stiamo facendo. Da questo punto di vista devo dire che siamo abbastanza messi bene, però dobbiamo sempre stare molto molto attenti. In chiusura, mister, è difficile fare delle previsioni, ci sono tante incognite, ma lei che cosenza si aspetta domani? Mi aspetto un cosenza agguerrito, è una squadra che purtroppo per loro è nei bassi fondi della classifica, è una squadra comunque buona, composta da ottimi elementi, ora hanno cambiato allenatore, quindi mi aspetto una partita giusta, agguerrita, contro una squadra che cerca disperatamente punti, ma dall'altra parte ci siamo noi che allo stesso tempo cerchiamo punti disperatamente perché, ripeto, dobbiamo raggiungere il nostro obiettivo principale. Grazie a tutti.